In questa meravigliosa location, è un sito templare poco conosciuto, devo dire, e anche la nostra presenza come ordine templare della vita del Pellicano insieme alla Chiesa Ortodossa oggi ha un senso non solo per celebrare la venuta del Metropolita, ma anche per valorizzare i luoghi storici della Calabria. Io proprio l'altro giorno leggevo una rivista a livello nazionale dove vengono indicati i maggiori luoghi di interesse templare e non c'è la Calabria, non c'è San Fantino, non c'è nulla, invece in realtà sono posti come Montauro vicino a Soverato, l'ipogeo di Sotterra di Paola e San Fantino che vanno valorizzati. E anche questo, seppur in un ragionamento di nicchia, però anche è un interesse del territorio, vedere valorizzati i propri posti. Noi vedremo nella cripta, più tardi scendendo, che ci sono dei simboli templari molto forti e la presenza templare in questo luogo prende le mosse addirittura dal ritorno dei templari da Gerusalemme, perché questa era la traccia, e Seminara è anche un esempio, proprio del percorso che c'è stato dalle crociate per il ritorno e portando le Madonne Nere, portando forse la sindrome, dico forse perché c'è un lavoro di ricerca in questo senso, ma senz'altro qui si è fatta la storia della cristianità, qui si è fatta la storia dell'umanità, perché l'umanità senza la cristianità non sarebbe nulla, e non parliamo dei fatti di oggi, di Israele, eccetera. Quindi siamo ben felici di essere qui come ordine templare, insieme alla Chiesa Ortodossa, che rispettiamo moltissimo, perché hanno una spiritualità e un rigore, da cui dovremmo imparare anche noi cattolici, che certe volte andiamo un pochino per le vie brevi. Oggi è una giornata storica. Nella cripta di San Fantino saranno rievocati i santi comuni pre-scismatici, cioè prima della divisione delle due Chiese, e avverrà in questo luogo, e avverrà con la presenza autorevole dell'Esarca dell'Europa. E questo è un fatto molto, molto importante, perché va nella direzione della pace, va nella direzione della concordia. Siamo molto felici di ospitare questo evento, che è appunto un pellegrinaggio, e la supplica in onore dei santi italo-greci, che rappresentano un po' un punto di collegamento, di comunione tra le nostre diverse fedi. E quindi, insomma, è per noi un motivo di orgoglio e di felicità ospitare oggi questa giornata, in questo luogo particolarmente, diciamo, ovviamente indicato, essendo dedicato al culto di San Fantino. Sono padre Benedetto Colucci, l'abbate del monastero greco ortodosso di Seminara. Oggi è un evento storico qui alla cripta di San Fantino, il luogo più antico della Calabria cristiana, intorno appunto alla tomba del più antico santo cristiano San Fantino. Siamo qui riuniti oggi il clero ortodosso di Calabria, insieme al nostro padre e pastore, l'arcivesco metropolita d'Italia, sua eminenza Policarpo, insieme anche comunque alla comunità cattolica locale, per onorare questo santo comune, San Fantino. E in lui riscoprire tutte le nostre radici italo-grecchie di meridionali. Quindi in lui, con lui, onorare tutti questi santi, i santi italo-greci, che per secoli hanno vissuto, sono nati in Calabria, in Puglia, nella Sicilia, e sono i continuatori della civiltà ellenica, e quindi poi dopo il cristianesimo la civiltà greco-cristiana. Quindi, come diceva il nostro padre spirituale, padre Cosmas, è alla Calabria che si deve tornare, cioè riscoprire le nostre radici più autentiche, più profonde, quelle greco-cristiane, per poter continuare a camminare nel futuro e costruire così una civiltà di pace e di dialogo e di rispetto.